Quarta edizione della Mebo Classic, una corsa da Merano a Bolzano per la solidarietà. Come è andata? È stata difficile? Bellissima, una bellissima manifestazione, una bellissima compagnia e soprattutto per un buon motivo, per venire incontro alla Peter Pan, alla Nemo e alla Nemo, che sono due associazioni che seguono i bambini con malattie piuttosto gravi. E tra i maratoneti c'è chi sembra non aver sentito per nulla la fatica. La mascotte, tutto bene, bellissimo, e sono tutti invitati il prossimo anno. Adesso tornerete a piedi? Ma mi sa di no, mi sa che torniamo in treno, sì sì, abbiamo dato abbastanza penso. Nemo, qualcosa da dire? Solidarietà da parte di un gruppo di amici che corre più veloce per aiutare gli altri. Siamo una bella compagnia, quindi questa corsa è simpatica, oltre agli scopi per cui viene fatta.